Cari svizzere e svizzeri all'estero, in occasione della nostra festa nazionale vorrei rivolgervi un messaggio d'ottimismo ed apertura. Da molti mesi stiamo vivendo un periodo tormentato. Coronavirus, guerra in Ucraina, energia, clima, ritorno dell'inflazione. Le crisi si succedono al ritmo serato. Dovunque si viva, in questo contesto burrascoso non è sempre facile orientarsi. Il primo agosto è una buona occasione per ricordare che cosa sta alla base della forza e della coesione della Svizzera e perché possiamo guardare al futuro con fiducia. Che viviamo in Svizzera o all'estero siamo uniti da solidi valori comuni. Penso in particolare alla promozione della pace, alla difesa della democrazia e della libertà d'espressione, all'attaccamento alla neutralità, al senso del compromesso o alla solidarietà. Questi valori sono radicati nelle nostre istituzioni e sono garanzia di credibilità e stabilità. Quest'anno festeggiamo i 175 anni della nostra Costituzione, una celebrazione importante che ci ricorda che nel 1848 la Svizzera è stata la prima democrazia in Europa. Ma il nostro paese, anche se può sembrare paradossale, deve la sua coesione anche alla sua diversità, alla diversità delle lingue e delle culture, ma anche alla diversità delle prospettive e delle opinioni e all'importanza che diamo al dialogo. Per voi questo significa che dovete far sentire la vostra voce e partecipare alla vita politica esercitando i vostri diritti civici. In questo contesto la ripresa delle prove di voto elettronico è certamente una buona notizia, ma si tratta di prove ancora limitate. Nella cyberamministrazione sono necessari altri progressi. Care Svizzere e Svizzeri all'estero, nel corso dei secoli la Svizzera si è costruita e ha prosperato come paese aperto agli altri, aperto al mondo. Non rineghiamo questa tradizione e guardiamo fiduciosi al futuro. E' molto importante, soprattutto in un periodo tormentato come questo, in cui il multilateralismo e le democrazie sono rimessi in questione. Difendendo insieme i valori che caratterizzano la Svizzera, potremo conservare ciò che ci unisce e far progredire il nostro paese. Auguro uno splendido primo agosto a tutte e tutti voi.